Il padre di Belen ha al grande fratello Vip, la Rodriguez è contraria Belen Rodriguez non vuole il padre Gustavo al grande fratello Vip. La partecipazione di Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, al grande fratello Vip diventa sempre più certa. Gli autori hanno preso sul serio la proposta della conduttrice Ilari Blasi e hanno cominciato a corteggiare l'argentino. In un video girato sul set del servizio fotografico di Chi, Gabriele Parpiglia giornalista e autore del reality show ha menzionato la questione non ricevendo grandi consensi da parte della showgirl argentina. Se il padre sembra parecchio entusiasta, non è dello stesso avviso l'ex moglie di Stefano De Martino. Il motivo? La testimonial Cotri-Legues non lo ha detto chiaramente ma si è limitata a dire, così ci rovina tutti. Nell'intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini Belen ha invece confessato che il padre è la persona più pazza della famiglia. Dunque, nulla di fatto per Gustavo Rodriguez? Forse sì, forse no e per il resto ha ben nove mesi di tempo per far cambiare idea all'amata primogenita. Grazie per la visione!